Una bella manifestazione, un modo sicuramente per ritrovare quella quotidianità con le manifestazioni cittadine. Come Comune ci ha puntato molto sulle manifestazioni della nostra città, un modo sicuramente per l'indotto commerciale, ma anche e soprattutto per ogni singolo cittadino genovese, per ogni visitatore della nostra città, a fare vedere se Genova viva. Quindi è bello sicuramente che ci ritroviamo con delle manifestazioni, con dei momenti dove anche raccontare Genova con eventi che vengono duplicati da altre città, uno anche scambio di manifestazioni importanti, che anche vedono Genova con l'Euroflora, con i Rolli, con la Design Week, fulcro proprio di un momento nuovamente con la primavera prossima, fulcro delle manifestazioni cittadine.